Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Oggi abbiamo presentato il Q Festival nella sede della Presidenza della Regione Puglia che è stata un'occasione per parlare di questo percorso attivato dal collettivo Zebu all'interno del MAT Laboratorio Urbano per la prima volta, ormai tre anni fa, dopo un anno di attività all'interno, quella del collettivo Zebu che non è improntata solo sull'organizzazione di eventi o sul fumetto in generale ma che spazia dal teatro all'offerta di servizi per la musica, per l'arte o servizi di pubblica utilità come per esempio una sala studio all'interno di un laboratorio urbano. Il Q Festival è un po' l'apice di un percorso che ci mette nella condizione di organizzare un festival che non sia solamente un'opportunità di offrire del pubblico intrattenimento ma di offrire sì degli eventi che magari garantiscono una fruizione allargata dei contenuti del festival ma anche delle opportunità formative a fruizione allargata, delle possibilità di visibilità per la filiera artistica locale per mettere in contatto questa filiera artistica poi anche con degli ospiti nazionali e internazionali. Sicuramente gli eventi avranno un ruolo importante nella visibilità e nella promozione del festival ed iniziamo il 29 luglio con Adriano Viterbini e Davide Toffolo continueremo con una giornata dedicata ai bambini con Mamma Chi Legge ma però è la proiezione della mia vita da zucchina si andrà avanti ancora il 31 con lo spettacolo teatrale del Davide Donatello, Giorgio Colangeli con Maria Antonietta, con quattro quartetti fino ad arrivare all'ultimo giorno al concerto dei bambù ci saranno anche tantissime attività finalizzate alla promozione delle illustrazioni in quanto tale di nuove pubblicazioni editoriali piuttosto che di focus informativi ma di questo forse è meglio che vi parla Sara di Spine che sono i nostri partner importantissimi di questo progetto. Spine da ormai due anni cammina a fianco il collettivo Zebu di cui condivide insomma le pratiche che attuano per appunto fare cultura e avvicinare come diceva prima Fabio il mondo dell'arte illustrata e non solo a una dimensione quella locale che comunque è ricca di persone appassionati del genere il Festival Q diventa quest'anno più che mai forse un'occasione di confronto che proponiamo non solo agli appassionati ma anche agli esperti agli illustratori e fumettisti del territorio di confrontarsi anche attraverso non solo i focus di approfondimento o i workshop e quindi delle attività di formazione ma anche per esempio mi viene in mente le portfolio review che abbiamo fissato per ogni giorno con degli esperti e dei fumettisti a livello nazionale molto noti per esempio sarà il nostro ospite Rattiger che è direttore editoriale della Coconino Press anziché ci saranno gli editor e i fondatori della Diabolo Edizioni insomma queste sono delle occasioni che vogliamo offrire ai fumettisti e agli illustratori di confronto e perché no anche di lavoro futuro non so quello è quello che ci auguriamo per sostenere il Q Festival vi aspettiamo al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi dal 29 luglio al 4 agosto non mancate Radio 00 suona ciò che ami più suona e più la ami